Oggi è la festa della donna, dunque facciamo un'incursione nello scaffale di Carlo De Cesare per chiudere con una storia di donna e di donne e di amicizia. L'Amica Bella è un romanzo di narrativa che racconta la storia molto comune tra due personaggi femminili che sviluppano un'amicizia molto intensa. La bellezza viene utilizzata come pretesto per raccontare la difficoltà di una persona comune a rapportarsi con qualcuno che ha una caratteristica straordinaria. Non è solo la bellezza che crea difficoltà, ma anche l'intelligenza, la competenza e l'altro si sente insicuro e tende ad implodere in se stesso nella propria inferiorità. Il conflitto si risolve attraverso questa amicizia che trasformandosi e consolidandosi migliora la qualità delle persone. Grazie a tutti. Grazie a tutti.